Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi voglio fare un slime Oio general, poi la calaverinica e poi un colorante alimentare Allora possiamo cominciare, prendiamo la nostra bolla Un altro po', ecco questo, basta E adesso ci mettiamo un po' di colorante Il libro è di nuovo E' un po' di colori E' un po' di colori C'è un po' di colori Un po' di colori Un po' di colori Un po' di colori Ma sta così Trattiamo un po' di general Una quantità un po' giusta E adesso ci mettiamo un po' alla volta Se non poi diventa troppo liquido Mescoliamo Un po' di colori E ci mettiamo un po' Perché non si addensa che un po' sta venendo un po' sta venendo io continuo a mettercelo così diventa un po' più addensato perché adesso diva piccita quando si stacca dalla ciotola potete smettere di mettere in tutto il sapore adesso andiamo a smettere un po' con le mani tipo è venuto però se un po' ancora un po' più si appiccica lo faccio diventare a mia mamma che forza dei brillantini c'è un po' di brillantini e mescoliamo e entro il tuo punto mescolo con le mani mi metto un altro po' di general papi finché non diventa proprio che non si appiccica potete mettere anche diventino se vuoi lo volete appiccicoso lo tenete in così io gli metto un altro po' di brillantini perché tipo non si vedono io ho scelto blu perché il blu non volevo tradito ecco qua è venuto il nostro slime e ciao a tutti e alla prossima ciao 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 ciao